Ciao, sono Luisa, vengo dall'Italia, sono venuta qua nella clinica di Dermolife per fare un intervento di palloncino gastrico, perché durante la pandemia sono ringraziata tantissimo. Ho cercato su Instagram questa clinica, ho visto che mi ispirava molto e quindi ho deciso di venire qua. La clinica mi sembra molto bella, il personale è molto preparato, quindi mi sento a consigliarvi questa clinica. Spero che domani l'intervento vada bene e a presto! Grazie a tutti!